Presso la provincia dell'Aquila si è chiusa definitivamente la vicenda Intex e più complessivamente dell'ex Italtel Siemens, visto che il laboratorio di ricerca e sviluppo era l'ultimo baluardo del polo elettronico aquilano. Lo scrivono in una nota la RSU Intex e la FIOM CGL della provincia dell'Aquila. Oggi, ingiustamente, 65 ricercatori perdono il posto di lavoro e si aggiungono a tutti quelli che la Intex ha licenziato in questi ultimi anni. Per far capire solo alcune delle applicazioni pratiche che vengono utilizzate quotidianamente dalla popolazione, si legge nella nota, possiamo ricordare gli apparati progettati e realizzati dai ricercatori del laboratorio aquilano, che hanno consentito di poter vedere in tutto il mondo le Olimpiadi australiane e greche, così come la tecnologia che ha consentito di portare la fibra ottica in tutte le abitazioni, è stata a qui realizzata e se oggi le reti ottiche 3G funzionano, è anche grazie al lavoro svolto dei laboratori del centro di ricerche del polo elettronico. Questi sono solo alcuni degli esempi per far capire quanto si stia perdendo non solo come occupazione, ma come tecnologia.